Il sentiero E1 è un sentiero europeo che unisce Capo Nord in Norvegia con Capo Passero in Sicilia, attraversando da nord a sud l'intero continente europeo. La sua lunghezza totale è di oltre 6 mila chilometri, ma attualmente la sua lunghezza effettiva è di circa 4.900 chilometri, in quanto il sentiero già segnalato parte dalla cittadina svedese di Gröverschön e termina a Castelluccio di Norcia, in Umbria. Il primo tratto italiano attraversa interamente il parco del Ticino, passando attraverso le sue foreste e regalando scorci di paesaggi naturali incontaminati.